Ecco, passiamo a un altro conflitto che ha avuto, ecco qui vedete, che ha avuto un importante momento, uno scambio di prigionieri, 16 prigionieri rilasciati da Russia e Bielorussia, otto prigionieri rilasciati alla Russia praticamente dagli Stati Uniti e anche dalla Germania, dalla Polonia e dalla Slovenia. Vedete quindi come quando praticamente Russia e Stati Uniti si parlano, si riescono a fare degli accordi, degli accordi importanti che come nella guerra fredda smorzavano i toni, restituivano dei prigionieri e così via. Vedete una restituzione di Vadim Krasnikov, condannato per omicidio in Germania, che viene restituito alla Russia, quindi un uomo molto gradito e vicino a Putin. Quindi qui invece sono stati liberati praticamente molti giornalisti sostanzialmente, quindi la libertà di espressione in Russia sono stati rilasciati questi attivisti dei diritti umani oppure giornalisti. Ecco, questo ha dimostrazione che con il nemico bisogna fare il dialogo in queste guerre e a dimostrazione anche per esempio che il conflitto non è quello Russia-Ucraina solo tra Ucraina e Russia, ma è un conflitto allargato tra Russia e Stati Uniti in primo luogo. Ecco, allora vediamo che qui è stato chiesto agli ucraini se sono disposti ad accettare concessioni territoriali alla Russia, no, neanche a costo di prolungare la guerra è la risposta ancora maggioritaria, invece la risposta, diciamo, che cresce è sì, pur di mantenere l'indipendenza. Ecco, qui passiamo al numero di Limes in edicola, il mondo cambia l'Ucraina, il mondo cambia l'Ucraina è un numero che fa riflessione sulla possibile ricostruzione della Ucraina, diciamo, vediamo se ci riesce di ritornare alla condivisione invece dell'immagine, quindi abbiamo visto la copertina, il mondo cambia l'Ucraina, numero 7 del 2024 della rivista di geopolitica Limes, dove si pensa il dopoguerra ucraino, dopoguerra ucraino che viene pensato in primo luogo come Ucraina da rifare, quindi una ricostruzione che si pronuncia lunga, onerosa, accanto a un'analisi anche demografico-economica, di come si finanziano le diverse province dell'Ucraina e come in pratica sta in piedi l'Ucraina e come si dovrebbe ricostruire. Poi ecco che la seconda parte è dedicata ai piani e ai dubbi delle grandi potenze, quindi la visione geostrategica di Stati Uniti, Russia e Cina sulla zona, sull'area geografica occupata dall'Ucraina e per vedere anche la posizione geostrategica, significa anche per pensare una prospettiva di pace duratura, tenete presente che qui il tema all'ordine del giorno è l'allargamento della Nato all'Ucraina, che parrebbe una decisione ormai non più senza ritorno, diciamo dopo anche il vertice del G7, ma il vertice del G7 ricordiamolo è un club tra gentiluomini, gentiluomini a volte non sono sempre tali. E poi ecco le faglie europee, le faglie europee sono le divergenze, le ricadute geostrategiche nel conflitto della Russia con l'Ucraina, che si ripercuotono creando delle divisioni in Europa. Un articolo che vi segnalo è l'articolo di Fabrizio Maronta, un caro amico di storia, quanto e dove chi il rebus della ricostruzione dell'Ucraina, una ricostruzione più grande del piano Marshall, una necessità di risorse ingenti e con anche il rischio che il sequestro delle risorse russe da parte dell'Unione Europea crea una situazione economica ancora più di divisione tra autocrazia e democrazia e con la conseguente consolidamento dei BRICS e di un'area in pratica che tende sempre di più a sottrarsi al dialogo con l'Occidente. Il costo della ricostruzione, in un altro articolo di Alessandro Cassieri, viene quantificato in 500 miliardi di dollari. Il consigliere del capo ufficio di Zelensky sarebbe favorevole a una trattativa, diciamo se venisse eletto, ma le elezioni ovviamente non ci sono in Ucraina perché c'è la guerra. Inoltre anche l'aspetto demografico dei rifugiati ucraini all'estero crea dei problemi. Bene, direi che possiamo terminare qui annunciandovi anche un qualcosa, una sorpresa di approfondimento per Ferragosto. Un caro saluto. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS